C'è la felicità! Oh! 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 Uno, due, due, piani di via! Ora! Un po' di via! 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 se uno si ha difficoltato ci impicherà la sua faccia c'è un male che ci riprendiamo è dell'immagine a Plano però qua la lettera non è 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 la lettera Lasciolo lì che è fuori gioco, che mica è cacciato l'invio, lascio, lascio lì che è fuori gioco. No, mica è cacciato l'invio, come c'è uno? No, no, no. Sopra, sopra, incrociata davanti! Ohi, colla, traspirato! Non ti chiamano signori? Chiamano tutti signori? Guarda che parola, sopra! Morso Dio, morso! Traolo! Signore, signore! Ehi! Non c'è andrò... Così è resta, la scopo d'ora! Ha visto così? Grazie a me, senti che viene... A me io queste... E quando ve lo faccio... Ehi! Traolo! Ma che te ne vogliamo di amare? Ma signore, che fassi dalla punizione, arbitro! Olè! Ma lei sta a scopo d'ora... Ma lei sta a scopo d'ora... Eh... Ma io... Ma questo che ha fatto? Ha chiesto la punizione di lui... Ma io... E la gioca, vai! E no, stai bene là! Sì, ma... Il giocatore... Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Grazie.